Succi Vraju, ripieno di insalata, il nome è già un edificio. Perché hai scritto questo piatto che è un pane, no? Sì, è un pane svuotato, nello sommo lì, che poi ho riempito con insalata, piuttosto che una zuppa anche, una zuppa calda. Perché? Come colori, come colori sì, e poi mi ricorda all'infanzia, a questo pane che le donne facevano a casa, io continuo a fare a casa lavorando la mano. E il pane era, perlomeno in Sardegna, quello che si portavano a pranzo. Una volta si portavano al lavoro, si portavano le fette di pane, ci mettevano l'erba, le tesservatiche, quello che trovavano.